Passiamo all'interrogazione numero 32992 presentata dai deputati Annibali ed altri che ad oggetto dati relativi al cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenze e misure per il rafforzamento di tale strumento di sostegno. Il deputato del Barba facoltà illustrare l'interrogazione di cui è confermatario. Prego collega. Grazie presidente, signora ministra per repare opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Con un emendamento di Italia viva nel decreto rilancio del maggio 2020 è stato istituito il reddito di libertà per le donne vittime di violenza con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro. Le leggi di bilancio del 2021 e 2022 hanno disposto ulteriori incrementi rispettivamente di 2 e 5 milioni di euro. Successivamente sono stati emanati i criteri per la ripartizione con il DPCM 17 dicembre 2020 e l'IMSS l'8 novembre del 2021 ha illustrato nel dettaglio la disciplina di questo beneficio precisando che va erogato nella misura massima di 400 euro mensili. Alla luce di questa esperienza ci sembra importante che l'implementazione di tale misura di sostegno e percorsi di libertà e autonomia delle donne sia verificata. Per questo le chiediamo il numero delle donne vittime di violenza che hanno soffruito dalla misura sino ad oggi e se siano previste azioni per il suo rafforzamento. La ministra per repare opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha facoltà di rispondere. Prego ministra. Ringrazio innanzitutto gli onorevoli interroganti per darmi modo di parlare in questa sede istituzionale di uno strumento che reputo fondamentale per il contrasto delle violenze maschile contro le donne. Il reddito di libertà in una misura di sostegno finanziario a favore delle donne vittime di violenza consiste in un contributo mensile erogato dall'IMS nella misura di 400 euro pro capite per un periodo massimo di 12 mesi. La misura si inserisce nella più ampia strategia di sostegno all'empowerment delle donne vittime di violenza in coerenza con il nuovo piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 che pone tra le sue priorità il contrasto alla violenza economica. Il reddito di libertà si innesta infatti nel percorso di ricostruzione di vita delle donne seguite dai centri di antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita da situazioni di abuso e violenze con l'obiettivo di favorirne l'autonomia abitativa e personale. La misura ha incontrato un grande interesse da parte delle beneficiari e a fronte dei 3 milioni messi a disposizione per l'anno 2020 sono state presentate 3.083 domande e ne sono state accolte 599 utilizzando di fatto la totalità delle risorse. Le leggi di bilancio successive hanno disposto un incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 ai quali sono stati aggiunti per l'anno 2022 gli ulteriori 5 milioni di euro stanziati sempre dalla stessa legge di bilancio. Pertanto le risorse assegnate al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza per il biennio 2021-2022 ammontano complessive 9 milioni di euro. Su mie indicazioni il Dipartimento per le pari opportunità ha pertanto predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto su base regionale per complessivi 9 milioni di euro per questo biennio sul quale è stato acquisito il concerto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'intesa in conferenza unificata nella seduta del 28 aprile scorso. Lo schema di DPCM in procinto di essere inviata alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri una volta firmato il provvedimento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti e diventerà pienamente operativo. Sarà così possibile recuperare anche le domande già presentate e rimaste insoddisfatte per l'esaurimento delle risorse. Voglio ricordare che le donne vittime di violenza potranno accedere anche al microcredito di impresa o al microcredito sociale con il supporto del Fondo per il microcredito di libertà che ho voluto costituire con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro con le risorse del Dipartimento per le pari opportunità. Si tratta di una misura che ha anch'essa la finalità di empowerment. L'obiettivo è accompagnare la donna nella vita lavorativa fuori dalla violenza. Ritengo essenziale rendere strutturali il reddito di libertà già a partire dalla prossima legge di bilancio nella consapevolezza che uno dei motivi per cui le donne spesso rinunciano a denunciare è il fatto di non avere un'indipendenza economica. Assicurare una prospettiva di vita possibile in autonomia fuori dalla gabbia della violenza in cui troppo spesso queste donne sono chiuse è una priorità della nostra azione di contrasto alla violenza maschile contro le donne. Ha facoltà di replicare la deputata Annibali. Prego collega. Grazie signora Presidente. La ringrazio Ministra Bonetti per la sua risposta. Sapere che sono stati investiti ad oggi complessivi 9 milioni di euro sostegno del reddito di libertà dimostra una volta di più la volontà sua e di questo governo di supportare uno strumento così importante per le donne che si trovano in situazioni di violenza. Attendiamo allora il decreto di riparto che lei ha annunciato. Avere un aiuto economico immediato e concreto per le vittime di violenza domestica prive di risorse economiche è essenziale per maturare la decisione di allontanarsi dal contesto familiare abusante e intraprendere un percorso di emancipazione e ricostruzione di una vita libera dalla violenza. Quando si parla di violenza domestica si tende a non considerare la violenza economica come una vera e propria forma di violenza nonostante sia riconosciuta dalla convenzione di Istanbul e invece occorre ribadire lei lo ha detto che la violenza si esercita su più fronti quello fisico psicologico ma anche economico che sebbene poco conosciuto è un fenomeno invece molto grave. La pandemia l'abbiamo ricordato più volte ha avuto un impatto negativo sulla violenza economica contribuendo alla sua diffusione anche a seguito della perita di lavoro e autonomia economica che sta riguardando molte donne. E allora è in questo contesto che è maturata l'iniziativa di Tagliaviva che come ha ricordato il collega del Barba attraverso un emendamento al decreto legge rilancio ha istituito il reddito di libertà. Abbiamo voluto estendere a livello nazionale uno strumento di libertà previsto da alcune regioni virtuose. Siamo allora molto contenti di sapere che già 599 donne abbiano potuto usufruire sino ad ora di questo contributo e ci auguriamo che a fronte delle nuove risorse da lei stanziate tutte le domande che presentino i requisiti richiesti possono essere accolte. Noi la ringraziamo Ministra per aver annunciato anche l'impegno a rendere strutturale il reddito di libertà già a partire dalla prossima legge di bilancio un tassello questo importante nella strategia complessiva messa in campo dal suo di Castero nel contrasto alla violenza economica. Grazie.